Esagramma 55, l'abbondanza, il fulmine che scocca sopra il fuoco, essere il sole a mezzogiorno, essere i governanti del proprio regno in grado di definire le leggi e offrire le punizioni. Questa è la grande responsabilità a cui ci richiama il libro dei mutamenti. Una volta venne in consultazione un padre domandando a proposito dei litigi e della rottura del rapporto che aveva avuto con suo figlio. L'esagramma 55 è un richiamare al proprio potere, richiamarsi al proprio ruolo. Noi siamo gli imperatori del nostro mondo. La maniera più saggia di utilizzare il potere è lasciare che le persone facciano i propri errori, lasciarle libere, amarle, emanare le punizioni, o meglio non emanarle, aspettare e aver fiducia che le cose si aggiustino da sole. Proprio come il fulmine che scocca all'improvviso sopra il fuoco. Buona vita e buon Tao.